Prosegue la battaglia del Comitato Acqua Pubblica che torna sul piede di guerra, anzi potremmo dire in trincea, proprio accanto al contatore per evitare futuri distacchi. Dopo l'esposto presentato in procura, il Comitato Acqua Pubblica ha incontrato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per richiedere l'immediato ripristino delle utenze staccate. Il sindaco di Arezzo si è preso l'impegno, scriverà nuovamente una lettera al presidente dell'AIT, l'autorità idrica toscana. Gli abbiamo messo in mano le carte, che sono i due procedimenti d'urgenza per richiedere il ripristino delle due famiglie che in questo momento hanno fatto un ricorso al giudice, in modo tale che lui adesso farà una lettera immediata all'autorità idrica, in modo che impongano a nuove acque e chieda un congelamento e un ripristino immediato di questi, stante che siamo in una condizione, dice lui, subiudice, nel senso che il tribunale si dovrà esprimere entro il 12 aprile, ma noi non possiamo pretendere, lui l'ha capito benissimo, si è detto d'accordo che non si può pretendere che delle famiglie stiano senza acqua fino al 12 per aspettare questo giudizio. Quindi ci ha garantito che faceva partire immediatamente questo, lo faceva anche con i sindaci, credo del comprensorio, ne metteva al corrente anche i sindaci. Il comitato ha fatto richiesta, secondo me correttamente, richiesta che quindi estenderò al presidente dell'autorità idrica toscana, di congelare la situazione attuale dei cittadini che hanno avuto il distacco, reintegrando quindi il minimo vitale dell'acqua, in attesa di due giudizi che si svolgeranno a breve, con rito d'urgenza, sia per la minaccia di distacco che per il distacco effettivo, che si svolgeranno al Tribunale di Arezzo il 12 e il 17 di aprile, quindi a brevissimo. Non c'è motivo né per andare avanti con nuovi distacchi né nel mantenere totalmente distaccate le famiglie che sono già state distaccate.